Con oggi cominciamo a ripassare gli elementi principali dell'analisi del periodo, partendo proprio dalle parole, dal significato che ti aiuta a capire poi quello che hai davanti. Cos'è un periodo? Un periodo è una parte di testo che ha senso compiuto, quindi è un'unità più piccola del testo, che ha un senso compiuto, nel senso che io non posso prendere un pezzettino di testo qualsiasi, ma questo testo deve avere un significato ben strutturato. Come faccio però io a capire qual è il pezzettino di testo che posso individuare come periodo? Il periodo lo riconosco perché ogni periodo è delimitato da una parte, da una lettera maiuscola, comincia con una lettera maiuscola e termina con un segno di punteggiatura forte. Quali sono i segni di punteggiatura forte? Beh, il punto fermo, ma anche un punto di domanda o un punto esclamativo, cioè quei segni di punteggiatura che ti fanno dire ok qui ci va una pausa. Bene, allora andiamo subito sul pratico e facciamo un esempio per capire bene quello che ci stiamo dicendo. Quello che vedi qui davanti è un testo, un piccolo testo. Adesso andiamo a individuare i periodi all'interno di questo testo. Abbiamo detto che devo andare alla caccia dei punti sostanzialmente. Bene, Cappuccetto Rosso arrivò a limitare del bosco. Punto. Qui ci sta una pausa. La faresti anche se tu dovessi leggere a voce alta. Bene, allora io qua metto una doppia righetta che mi dice stop. Abbiamo individuato un periodo. Sapeva bene che non avrebbe dovuto passare di là, ma la stradina tra gli alberi era invitante e così cercò di essere coraggiosa. Punto. Anche qua ci va una pausa. Una pausa un po' più lunga. Un altro periodo. Entrò. Punto. Il profumo dei fiori, il canto degli uccellini, le corse degli scoiattoli, tutto era bellissimo. Punto. Quindi all'interno di questo breve testo io ho individuato quattro periodi, cioè quattro unità più piccole, pezzettini di testo, che però hanno un senso compiuto. Perché se tu li leggi separatamente si capisce benissimo quello di cui si sta parlando. Benissimo. Come potrai notare i periodi in questo caso sono molto diversi tra loro. Abbiamo dei periodi molto lunghi, come il secondo, che dura più di due righe, ma abbiamo anche dei periodi molto brevi, come il terzo, che è formato da una sola parola. Cosa significa questo? Significa che dobbiamo subito sgombrare il campo da idee che potrebbero farti fare degli errori sciocchi. Ogni periodo è a sé. Non c'è una regola. I periodi possono essere molto lunghi, molto corti, mediamente lunghi, mediamente corti. Sono comunque periodi che vanno individuati in un altro modo. Vanno individuati come abbiamo visto adesso, cioè fermandoci al punto fermo o comunque insomma a un segno di punteggiatura forte. Bene. All'interno di ogni periodo io posso fare delle altre suddivisioni, ma queste suddivisioni, lo ripeto perché è importante, non dipendono dalla lunghezza del periodo. Dipendono dai predicati che ci sono nel periodo. Quindi, dopo aver individuato i periodi in un testo, io devo prendere in esame uno per volta i periodi e la prima azione che devo fare è andare a caccia dei verbi. Adesso ti consiglio di fermare questo video, rileggere attentamente ogni periodo e individuare secondo te tutti i predicati che sono contenuti in questo testo. Dopodiché riprenderai il video e faremo il lavoro insieme. Ok, trovati? Vediamo se li ha individuati tutti giusti. Cappuccetto rosso arrivò a limitare del bosco. In questo periodo c'è un solo predicato. Arrivò. Sapeva bene che non avrebbe dovuto passare di là, ma la stradina tra gli alberi era invitante e cercò di essere coraggiosa. In questo secondo periodo ce ne sono quattro. Sapeva, avrebbe dovuto passare. Nel terzo periodo ce n'è uno solo, che è tra l'altro l'unica parola da cui è composto il terzo periodo. E infine nell'ultimo periodo ce n'è uno solo. Era bellissimo. Se hai individuato i predicati tutti correttamente, sei già a buon punto. Se invece hai fatto qualche errore, è il caso di fermarci un attimo e ripassare alcune regoline che hai fatto probabilmente tanto tempo fa, ma che sono importantissime per fare correttamente l'analisi del periodo. Andiamo a vedere i verbi. qui ho riportato i verbi che abbiamo trovato prima nel brano. Questi verbi sono un po' diversi tra loro. C'è un primo gruppo di verbi semplici, quelli che ci sono più simpatici perché ci creano pochi problemi, che sono i predicati verbali. Arrivò, sapeva, entrò. Poi c'è un altro gruppo che è quello dei predicati nominali. Era invitante. Era bellissimo. Questi sono predicati nominali. E poi ci sono questi qua, che vanno tenuti insieme. Anche se sembrano tante voci verbali, in realtà non si possono separare. Sarebbe un errore separarli. Cercò di essere coraggiosa. Cercò di essere coraggiosa è una forma fraseologica. Cosa significa? Cos'è un verbo fraseologico? Parti sempre dalle parole per ricordarti le cose. Fraseologico, cioè come se ci fosse una piccola frase. Infatti vedi che tu qui cercò di essere coraggiosa. Non hai un'unica voce verbale. Hai ben quattro parole, quindi una piccola frase. Ma questo verbo in realtà indica un'unica azione. Non indica azioni diverse. Capuccetto rosso cercava di essere coraggiosa. È un'unica azione. Allora, tutte le volte che tu trovi cercare di iniziare a stare per... Sono verbi fraseologici, cioè verbi che per mezzo di un gruppetto di parole cercano di darti una sfumatura di significato più precisa. Sono utili i verbi fraseologici, ma indicano un'unica azione. E poi ci sono questi. Avrebbe dovuto passare. Questo invece è un verbo servile. Ti ricordi? I verbi servili, i principali sono dovere, potere, volere, sono i principali. Anche in questo caso ti danno una sfumatura di significato più precisa. Ti aiutano a capire o a esprimerti meglio, ma indicano in realtà sempre un'unica azione. In questo caso l'azione del passare. Non ci sono più azioni diverse. Se indicano un'unica azione, allora nell'analisi del periodo noi li teniamo in considerazione come se fossero un unico predicato, cosa che in realtà sono. Allora, scriviamoceli così, non ce li dimentichiamo. Questi abbiamo detto che sono semplicemente dei predicati verbali. E questi invece... dei predicati nominali. Poi ci sono i verbi fraseologici e i verbi servili. Bene. È importante distinguere questa tipologia di verbi perché se non li riconosci nel modo corretto, poi l'analisi del periodo viene tutta sbagliata. Quindi, prima cosa da fare è trovare il predicato e saper riconoscere il predicato corretto. Allora, la regola principale è questa. Ogni predicato una proposizione. Perché ti ho detto andiamo a cercare i predicati? Perché all'interno del periodo, se io ho tre predicati, avrò tre proposizioni. Ma ricordati, non c'entra la lunghezza, eh? Attenzione bene. Io posso avere un periodo molto lungo ma unico, un periodo più breve, formato però da più proposizioni. L'importante è che io riesca a individuare il predicato nel modo giusto. Facciamo un altro esempio. Questo è un altro piccolo testo. Io ti consiglio adesso di interrompere il video, leggere con molta attenzione questo testo e poi fare da solo l'operazione che abbiamo fatto prima. E cioè, per prima cosa, individuare i periodi. E poi, all'interno di ogni periodo, individuare le proposizioni. blocca il video, esegui questo esercizio e poi lo riprendiamo insieme. Eccoci qua. Dietro un cespuglio il lupo pensava ai fatti suoi, quando improvvisamente sentì un rumore che proveniva dal sentiero. Punto. E qui abbiamo individuato il primo periodo. Drizzò le orecchie. Punto. Ecco il secondo periodo. aveva riconosciuto il suono di passi leggeri che saltellavano tra le foglie, fermandosi a tratti e riprendendo poi la corsa. Punto. Ed ecco il terzo periodo. Già sentiva la colina in bocca. Anche in questo caso abbiamo quattro periodi. Adesso però dobbiamo andare alla ricerca dei predicati. Quindi stesso lavoro di prima, blocca il video e vai a cercare tutti i verbi. eccoci qua. Vediamo. Pensava, sentì, proveniva, drizzò, aveva riconosciuto, saltellavano, fermandosi, riprendendo, sentiva. Bene. Allora, nel primo periodo ci sono tre predicati. Nel secondo uno solo, nel terzo ce ne sono quattro e nell'ultimo periodo ce n'è uno solo. questo che cosa significa? Significa che abbiamo individuato anche quali potrebbero essere le proposizioni. Come faccio però io adesso a capire dove comincia e dove finisce una preposizione? Allora, per il periodo è stato facile. Vado a cercare i punti, vado a cercare dove finisce la frase e lì ho capito che finisce il periodo. Ma all'interno del periodo come faccio io a capire quali sono le proposizioni? Beh, ancora una volta io devo stare attenta al verbo. Perché? Perché la proposizione non è altro che la frase che viene costruita intorno al predicato. Anche qui abbiamo degli aiuti. Ricordati sempre che la punteggiatura è veramente un aiuto grande. La punteggiatura, i pronomi relativi. Vedrai che andando avanti con l'analisi del periodo troveremo tanti aiuti. Ovviamente ciò però che è lo strumento principale è la logica. Come già imparato l'anno scorso facendo l'analisi logica della frase, anche qui la logica è quella che ti aiuta. Allora, per prima cosa bisogna leggere il periodo tutto intero. Non cercare mai di spezzettare il periodo mentre lo leggi, perché soltanto la lettura totale del periodo ti dà intanto il significato del periodo ed è importante. poi come seconda cosa abbiamo detto andiamo a cercare e individuiamo i predicati e poi capiamo intorno a ciascun predicato qual è la frase che si è costruita. Partiamo con il primo periodo. Lo facciamo insieme. Dietro un cespuglio il lupo pensava ai fatti suoi. Io qui posso già fermarmi perché ho già detto la frase che è costruita intorno al predicato pensava. Allora metto il mio segno di stop. Quindi io ho il lupo dietro il cespuglio che sta facendo un'azione, non predicato pensare, sta pensando. Quando improvvisamente sentì un rumore. Ecco che questa è la proposizione è costruita intorno che dipende dal predicato sentire. E allora interrompo qua. Che proveniva dal sentiero? Questo che, l'avrai sicuramente riconosciuto, è un pronome relativo. Il quale, cioè il quale rumore, proveniva dal sentiero. E ho trovato la terza proposizione. Allora intanto abbiamo verificato la regola. Tre predicati, tre proposizioni. Non è difficile. Bisogna stare attenti al significato dei predicati e leggendo e capendo il significato la divisione viene quasi naturale. Per il secondo periodo c'è nulla da dividere perché c'è un solo predicato e l'unica frase che io leggo è drizzò le orecchie. Quindi questo è già posto così. Non dobbiamo fare nient'altro. Invece il terzo periodo ci propone ben quattro predicati. Aveva riconosciuto il suono di passi leggeri. C'è una virgola, una piccola pausa e dopo abbiamo di nuovo, guarda un po' il pronome relativo. Allora io qui posso interrompere la mia prima proposizione. Aveva riconosciuto il suono di passi leggeri. I quali saltellavano tra le foglie. Questa è la seconda proposizione creata dal verbo saltellavano. fermandosi a tratti e riprendendo poi la corsa. Qui ho una congiunzione. Ecco, la congiunzione è un altro di quelle bandierine che mi fanno dire attenzione. Attenzione perché qui sta cominciando un'altra proposizione. L'ultimo periodo ha un solo verbo, già sentiva la colina in bocca e quindi è a posto così. Allora che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che all'interno di un periodo ogni predicato ha intorno a sé una frase con un suo significato che dipende proprio da quel predicato e ho già incontrato alcune bandierine, alcuni segnali che mi aiutano nel distinguere le proposizioni. La punteggiatura, i pronomi relativi, le congiunzioni. Chiudiamo questa prima lezione di ripasso. Cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato cos'è un periodo e come riconoscerlo. Cos'è una proposizione e come riconoscerla. quanti tipi di predicati ci sono. Quest'ultimo punto che abbiamo ripassato insieme è fondamentale. Perché? Perché se tu applicherai in modo corretto l'individuazione dei predicati, ridurrai moltissimo le possibilità di sbagliare e farai un'analisi del periodo corretta. Ci vediamo alla prossima. Buon lavoro!